Proprio vero che le sostituzioni molte volte decidono le partite, a Cosenza aveva mandato in campo Crecco che ha segnato il gol del 2-2, oggi ha mandato in campo Del Sole che ha segnato una doppietta permettendo al Pescara di vincere la partita, questa è una squadra che ha 24 titolari. Sì, l'ho sempre detto, io confido in tutti i giocatori, anche chi adesso non sta giocando, verrà il suo turno, il suo spazio, l'importante è allenarsi bene per poi farsi trovare pronti. Lei aveva detto, parlando di Del Sole, che questo è un ragazzo che sta facendo molto bene, sta crescendo, arriverà anche il suo turno, questa sera è arrivato il turno di Del Sole e che partita ha giocato nel finale il giocatore della Juventus? Sì, è un ragazzo molto giovane, ha fatto il suo percorso, nel senso che si è allenato molto bene con noi, non ha mai detto niente, si è sempre lavorato sodo e pian piano sta venendo fuori, l'importante è sempre gestirlo bene perché è un ragazzo molto giovane. Lei non guarda la classifica, però le avranno detto che il Pescara è tornato in testa? Sì, sì, ma va bene, non cambia niente, noi dobbiamo andare a Palermo, cercare di giocare bene, giocare la partita, giocare a calcio perché solo tramite giocando a calcio riusciamo a fare il risultato. A proposito di partite, quella di questa sera nel primo tempo forse il miglior Pescara della stagione, poi quel gol di Palombia al 47esimo del primo tempo è stato pesante da digerire, soprattutto a livello psicologico e si è visto nella ripresa. È vero, infatti è un primo tempo suntuoso, bellissimo su tutti i punti di vista, quel gol ci ha innervosito, non abbiamo più giocato, abbiamo pensato a gestire la partita e noi non siamo capaci di gestirla, perciò dobbiamo cercare di giocare sempre, cercare di fare il terzo gol. Poi siamo andati anche un po' in confusione, meno male che alla fine ha fatto una giocata a Nando che è stato molto bravo. Grande calore questa sera sugli spalti, pubblico che ha trascinato la squadra alla vittoria, c'è stato quell'abbraccio finale sotto la curva davvero importante, state riportando il grande pubblico allo stadio Adriatico. Ma sono contento di questo, è merito di ragazzi e sono contento che la gente si stia affezionando a questa squadra. L'ultimissima pillonne, il suo allontanamento nel finale, cosa è successo con il direttore di gara? No, sono andato dal quarto uomo e gli ho detto guarda che secondo me era fallo per noi, solo che era andato fuori dalla riga e mi ha cacciato.